oggi finiamo in bellezza questa giornata di bellezza candele poche luci ci illuminiamo di meno tutti infatti la giornata si chiama mi illumino di meno bravissimo claudio hai vinto di riprendermi mentre proviamo questo basso che è una chicca una robina mica da ridere questo è un offner federal è un'edizione limitata tra l'altro ne hanno fatti 10 esemplari e uno ce l'abbiamo noi in realtà se non ricordo male ne hanno fatto 11 perché uno avevano fatto mancino perché sai che offner ci tiene ai mancini te pensa quindi hanno ne hanno fatto uno solo mancino e 10 da destra pensa uno ce l'abbiamo noi e uno qua vedi allora diciamo uno di 11 dai i mancini sono persone anche loro allora questo qua ha un po di caratteristiche non è un vero e proprio acustico per sé però a cassa larga è totalmente vuota e infatti sentite che anche adesso lo stiamo suonando senza d'attaccare niente no perché ci illuminiamo di meno e facciamo andare meno energia risparmiamo sui amplificatori attacchiamo sulle candele dell'ikea perfetto tutti vincono sentiamo sentiamo un po come suona sentite un po come suona tra l'altro vorrei far notare che siamo 30 pollici di lunghezza scala e con le corde lisce da basso elettrico bello quindi sentite che razza di suono ne viene fuori sentiamo come suona si bellissimo anche si roccheggia facendo il twist pur con uno strumento acustico questo è fatto in Germania fatto a mano ed è una bomba suona alla grande immaginatevi cosa diavolo può suonare una volta che lo attaccate all'amplificatore faremo una prova anche amplificata esatto ma soprattutto esatto finché non faremo nulla prova immaginatevelo oppure venite qui a provarlo perché noi questo qua ci andiamo per sul serio e ve l'abbiamo fatto sentire non amplificato totalmente live unplugged l'unplugged quello vero l'unplugged quello vero non c'è trucco non c'è inganno ma ci sono un sacco di bassi che bello fantastico vi aspettiamo per provarlo qui in negozio andatevelo a vedere sul nostro e-commerce cliccando il link e ovviamente appunto venite loro solite cose solite cose solite cose noi vi aspettiamo soprattutto spegnete qualche lucina e provate a fare qualche nota al buio che vi assicuro è una figata io vorrei che fosse sempre così sto negozio e cioè risparmiamo sulle energie sarà contenta 2A 2A sarà contentissima oppure sarà meno contenta vediamo ci manderà qualcuno a dire perché non accendete le luci accendete le luci ci accende tutto spegniamo miliardi al mese ma non importa l'importante è la musica l'importante è la musica è la musica